Scopri la raccolta Il Giardino che avventura! Ti aspettano un grande album e 120 carte da collezionare e scambiare, dedicata a piante e animali. E in più, 18 vasetti di semi in cui far crescere fiori, erbette o verdura, anche a casa tua. Vieni a conoscere da vicino gli animali e le piante che abitano il giardino. Il Giardino che avventura, ora da Coop e partner selezionati!